eccoci qua un'altra lavorazione jeep renegade car tablet siamo già in usb con gestione musica per quanto riguarda cambiare le tracce eccolo qui stessa cosa non so se ci sono video video non abbiamo ok qui abbiamo la gestione dell'aria condizionata ovviamente qui tutte le impostazioni veicolo non so se ci sono dobbiamo anche la retrocamera no retrocamera non ce l'abbiamo perfetto allora qui andiamo qui radio ce l'abbiamo qui non ce l'abbiamo di zema zema non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo